Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Oggi apriamo un'altra casella del calendario dell'avvento di Harry Potter Allora, ieri era il 12 dicembre Quindi abbiamo aperto questa casella qui Che era molto grande Invece oggi andiamo ad aprire una casella più piccola Molto più piccola Eccola qui, la numero 13 Andiamo ad aprirla È tra le più piccole insieme alla 2 Che sono le più piccole del calendario Andiamo ad aprirla Ok Oddio, è una cosa piccolissima Che non riesco a tirare fuori Ecco, ci sono uscita Che bella È una graffetta che si può usare Sia per mettere insieme i fogli Ma anche come segnalibro Per quando leggiamo un libro E segnare dove siamo arrivati a leggere Ecco, per esempio Io sto leggendo Harry Potter e la pietra filosofale E sono arrivata al capitolo 16 Noi possiamo mettere Qui La graffetta Chiudiamo E questa esce fuori Oppure Se stiamo Tipo Se ci manca ancora un sacco da libro Mica possiamo prendere tutte le pagine Quindi possiamo pure prendere Una o due pagine Le infiliamo così E quindi poi qua Ci teniamo il segno Apriamo così E possiamo leggere Allora Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un bellissimo mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao